gentili telespettatori buona giornata pensioni quota 100 l'assegno potrebbe essere dato in due momenti diversi l'idea dell'inps sarebbe una prima parte a 62 anni e il resto a 67 ma vediamo di che cosa si tratta in attesa di capire cosa accadrà con quota 100 che sembrerebbe abolita scomparire e che in ogni caso anche se confermata oltre la scadenza del 2021 va comunque messa per iscritto cioè è già chiaro che con un nuovo atto legislativo il dibattito sulle nuove modalità per uscire dal lavoro ferve e si arricchisce di idee e ipotesi suggestive così se la lega è a difesa del principio che non si può per accontentare l'europa spostare ancora in avanti la linea d'uscita dal mondo del lavoro l'ultima cosa da fare è aumentare l'età pensionabile dice matteo salvini nei giorni scorsi pasquale tridico che è il presidente dell'inps ha spiegato nel corso di un convegno la sua soluzione per trovare un punto di mediazione nell'introduzione dei criteri per favorire una maggiore flessibilità in uscita la proposta è questa prevede il pagamento dell'assegno in due parti la prima parte calcolata in base alla quota contributiva quella maturata con i versamenti dal 1995 in poi da erogare a 62 63 anni di età e con il requisito minimo di 20 anni di contribuzione la seconda parte cioè quella dei contributi che sono versati prima del 95 dunque calcolati con il sistema retributivo e che hanno un peso specifico maggiore nella determinazione dell'importo sarebbe aggiunta alla prima parte a partire dai 67 anni insomma una pensione in due tempi che potrebbe consentire a chi vuole lasciare il lavoro è costretto dalla crisi economica dell'azienda di poter contare su un assegno che consenta il sostentamento per poi attendere dopo 4 5 anni di ottenere tutto il maturato tridico avrebbe previsto anche alcune agevolazioni per raggiungere il traguardo prima come lo sconto di un anno per ogni figlio e per le donne lavoratrici oppure un anno in meno ogni 10 anni di lavoro usuranti e gravosi in questo modo i soggetti più deboli potrebbero arrivare a ottenere l'assegno completo prima del tempo la proposta prevede dunque la divisione in due quote della pensione quella contributiva e quella retributiva però immaginate che a 62 anni vi arriva una pensione quasi minima e poi l'altra arriva dopo praticamente cinque anni cioè la vera pensione arriverebbe a 67 anni non mi sembra una grandissima proposta questa sarebbe l'idea per la riforma più urgente quella che deve essere pronta per la fine di quota 100 sempre nel novero degli interventi urgenti il presidente dell'inps ha richiamato le finestre di uscita per i lavoratori fragili le facilitazioni per i disoccupati anziani in situazioni di particolare vulnerabilità e le misure per i lavori gravosi come ad esempio per chi fa lavori edili addetti a lavori acrobatici e ai ponteggi dove è alta l'incidenza degli infortuni tra i capitoli di una riforma di lungo periodo invece si punta a creare una pensione di garanzia per i giovani che tra sistema contributivo bassi salari e precarità lavorativa rischiano di trovarsi a 67 anni con un assegno da fame per incrementare la flessibilità in uscita il presidente dell'inps ha parlato di incentivi per la formazione come il riscatto pieno e gratuito per gli anni di laurea infine sempre secondo tridico altri buoni strumenti in campo previdenziale potrebbe essere quello della staffetta generazionale ovvero la trasformazione dei contratti dei dipendenti più anziani in contratti part time e la contestuale assunzione di lavoratori giovani con i risparmi conseguiti dall'azienda ma sinceramente a me queste proposte non piacciono nel senso che il lavoratore a una certa età diventa part time ma sapete che poi diventano part time e l'azienda li continua a fare lavorare full time poi con naturalmente pagandogli gli straordinari o pagandoli in altro modo e intendiamoci quindi quella di far diventare i lavoratori vicini alla pensione part time non mi sembra non mi sembra questa genialata anche perché una persona che è grande di età uscire comunque la mattina presto per andare a lavorare per la metà del tempo deve comunque alzarsi fare il viaggio il treno l'autobus e ovviamente ovviamente poi non conviene neanche tanto più perché il costo dei viaggi sono fissi mentre poi la retribuzione diventa la metà dunque quello che incide come costo per traspare andare al lavoro incide il doppio di prima e poi così la pensione poi diventa anche più bassa perché se gli ultimi anni di lavoro sono part time vanno ad abbassare la pensione insomma non mi sembrano delle grandi proposte anzi non mi piacciono non mi piacciono per niente il fatto è che lavoro ce n'è poco perché qualcuno dice beh ma con una quota 100 alla fine oppure cercando se non si abbassa se non si abbassa l'età pensionabile alla fine i giovani non hanno lavoro beh in alcuni casi è così in alcuni casi non lo è comunque io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita poi siamo anche in facebook la pagina si chiama tele italia e poi anche nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete di video di tele italia seconda rete tele italia dopo qualche ora li trovate condivisi anche su facebook poi nella community del canale ci sono anche dei sondaggi ai quali poter partecipare e commentare mentre nella diciamo c'è la possibilità anche di sottoscrivere degli abbonamenti l'abbonamento è una cosa in più con l'abbonamento da da un euro 0 99 al mese si possono vedere i video ore prima che vengano pubblicati per tutti perché ogni registro poi li suddivido per tutta la giornata mentre con questo così con questo abbonamento li potete vedere subito quando li carico con un link che io condivido nella community schiacciate sul link e si aprono questi video poi c'è la possibilità di fare anche l'abbonamento da 2 euro e 99 cioè 3 euro al mese con questo si possono vedere oltre ai video in anteprima anche dei video solo per chi ha questo abbonamento grazie a tutti per avermi ascoltato e se volete tra una ventina di minuti ci sarà un altro video disponibile qui sul canale grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti